gli USA hanno congelato 125 milioni di dollari di fondi destinati all'agenzia dell'ONU che aiuta i rifugiati palestinesi. Nei giorni scorsi il presidente americano Donald Trump aveva minacciato questa decisione per il rifiuto dei palestinesi di sedersi al tavolo dei negoziati di pace con Israele dopo il riconoscimento americano di Gerusalemme come capitale israeliana.